Amici di Investire in Borsa Caccia di Dividendi, buongiorno, bentornati e bentrovati, buona domenica a tutti. Oggi parliamo di un'operazioncina che ho fatto la settimana scorsa, giornata di ferie, ne ho approfittato, come spesso mi accapita, per fare un piccolo switch. Cosa vuol dire? Ho sostuito un'azione per comprarne altre due. In particolare ho venduto IMA e andremo a vedere nel corso del video quali azioni ho comprato e soprattutto perché l'ho fatto. Come sempre si tratta di una condivisione delle mie operazioni e del mio portafoglio, non si tratta di consigli. Per gli acquisti ognuno deve valutare in base alle proprie prospettive, in base al proprio orizzonte temporale, in base al proprio grado di rischio se ogni azione è da inserire nel proprio portafoglio oppure no. Allora, prima di partire come sempre un bel like, supportiamo gratuitamente il canale YouTube Investire in Borsa Caccia di Dividendi, mi state veramente dando una grossissima mano, spero che questo canale di educazione finanziaria vi piaccia molto, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale schiacciando sulla campanella per attivare le notifiche ogni volta che ci sarà un nuovo video. Allora, cosa sta succedendo? Notizia ormai di quest'estate, OPA, IMA finalizzata al delisting, 68 euro per azione. Cosa vuol dire? O IMA, l'azienda della famiglia Vacchi, ha deciso di togliere dalla borsa, in sostanza io parlo proprio in parole molto molto povere, togliere dalla borsa IMA offrendo 68 euro per ogni azione, quindi OPA vuol dire offerta pubblica di acquisto. Allora, avevo già parlato del processo di OPA su IMA, qui se volete bloccare il video c'è insomma un resoconto molto molto veloce di quello che è stato deliberato a luglio di quest'anno, inutile tornarci nuovamente sopra, in sostanza ancora non si sa bene la tempistica però a novembre, nei mesi di novembre dovrebbe concretizzarsi effettivamente questa OPA per poi avere probabilmente la liquidazione sul conto corrente delle azioni IMA per chi aderisce all'OPA nel corso però dei mesi successivi, ancora sulle tempistiche non c'è nulla di certo. Però, cosa è successo in questo periodo? IMA sostanzialmente si è allineata al prezzo dell'OPA, possiamo vedere come infatti appena c'è stata la dichiarazione, l'azione quotava appena sopra i 50 euro, appena c'è stata la dichiarazione dell'OPA, IMA in pratica si è livellata vicinissimo ai 68 euro e poi in pratica in questi mesi è stata stabile appunto tra i 67,40 e i 67,80 circa. Quindi, cosa ho ritenuto fare? Per quanto mi riguarda, ho preferito vendere anticipatamente l'azione, ho preso sicuramente qualcosina in meno di 68, però ho deciso di vendere perché un'azione in particolare si è avvicinata molto al mio prezzo desiderato. IMA l'avevo comprata nel lontanissimo 2012, un prezzo attorno ai 13,50 euro, quindi diciamo che sostanzialmente ho moltiplicato per 5 il mio capitale, non avevo investito tantissimo, si tratta di un investimento di 30 azioni, però comunque esco con un gain del 400%, quindi insomma un risultato soddisfacente anche in virtù dei tanti dividendi incassati da IMA in questi otto anni. Il 2020 ha saltato il pagamento del dividendo, però per gli anni precedenti comunque pagamenti regolari e in continuo aumento. Mi dispiace molto. Il venire a mancare di questa azione fantastica, però niente, facciamo una ragione, passiamo ad altro e andiamo a vedere poi in cosa ho investito. Ecco qui quindi la vendita di IMA, ho venduto 30 azioni a 67,75 per un controvalore di 2032,50 euro e sono andato a investire in IREN, azione già presente nel mio portafoglio con 550 azioni, avevo un prezzo di carico di poco superiore ai 2 euro, l'azione è scesa sotto i 2 euro, ne ho acquistate 950, quindi un controvalore vicino ai 1900 euro, per 1,97 euro per azione. Ho inoltre comprato COIMA RES, un piccolo spezzone per un controvalore di circa 410 euro, 89 azioni a un prezzo di 4,62. Su COIMA in particolare mi è andato anche bene perché nell'arco della settimana il prezzo dell'azione è aumentato. Discretamente anche in scia ha una trimestrale abbastanza interessante e andremo a vedere anche tutte le altre notizie. perché ho fatto questa operazione nella stessa giornata, si tratta di titoli che ho nel mio PIR, la regola vuole che se io vendo qualcosa presente nel PIR devo sostanzialmente comprare nel giro di un ristretto numero di giorni subito altre azioni, almeno per lo stesso importo, tali che mi permettano di andare comunque a rispettare i limiti imposti dal PIR. Per quanto riguarda questa compravendita, quindi possiamo vedere come ho disinvestito un controvalore di 2.032 euro, ho reinvestito un valore di circa 2.300 euro attingendo anche in parte dal saldo che avevo sul conto che mi derivava appunto dall'incasso dei dividendi del mese di ottobre. A parte degli incassi infatti mi arrivano sul conto PIR. Andiamo a vedere nel dettaglio perché sono giunto alla scelta di queste due azioni. Allora partiamo da Coima Res, per chi non la conoscesse è una SIC, ovvero una società di investimento immobiliare quotata, molto simile diciamo ai REIT americani. In cosa investe? Allora, investe dal punto di vista geografico, il portafoglio di Coima è concentrato per il 90% a Milano, 51% in particolare distretto di Milano Porta Nuova, 39% in altri distretti, il 4% in Lombardia, escluso Milano, e 6% in altre regioni del nord e del centro dell'Italia, 85% segmento uffici, 4% hotel, 9% filiali bancarie, 2% altri segmenti residuali. Andiamo a vedere i conti dei primi 9 mesi di Coima, canoni di locazione in aumento addirittura del 23% rispetto ai primi tre trimestri del 2019, utile invece in contrazione del 50% dovuto in gran parte a una variazione negativa del fair value del portafoglio nel periodo in esame. Quindi diciamo comunque un flusso di affitti incassati dalla società immobiliare in aumento notevole in quest'anno grazie soprattutto chiaramente agli investimenti fatti durante il periodo, quindi canoni di locazione in aumento del 23,4%, molto interessante inoltre la notizia che Coimares ha deciso di distribuire l'acconto del dividendo 2021, quindi relativo all'esercizio 2020, per una montare di 10 centesimi per azione, la cedola sarà staccata il 16 novembre, quindi in sostanza lunedì della prossima settimana e messa in pagamento il 18 novembre. Quindi insomma, notizie molto positive da Coima, vediamo l'andamento dell'azione, è stata veramente bastonata quest'anno, come è successo in molti casi per i rate, veramente bastonata, ho deciso di aumentare la mia esposizione in Coimares, perché il prezzo di carico era di circa 6,20 euro, l'avevo acquistato durante i cali di marzo-aprile, scesa sotto i 5 euro, insomma mi sembrava comunque un'ottima opportunità, i fondamentali dell'azione sono buoni, il dividend yield a questi prezzi è superiore a 6%, quindi insomma molto molto interessante, ben coperto dagli utili, almeno quelli relativi all'anno passato, però ricordiamo che per quanto riguarda le società immobiliari, più che l'utile per azioni, è importante andare a vedere il dato che si chiama FFO, quindi in pratica il flusso di affitti, tra virgolette, percepiti dall'azienda stessa. Andiamo a vedere come si è mossa nella distribuzione di dividendi Coimares nell'arco degli anni, è una società di quotazione relativamente recente, è in borsa di circa 4-5 anni, quindi insomma una storia abbastanza breve, però una storia di dividendi interessante, infatti da quando è quotata ha sempre distribuito un dividendo o costante, quindi non in diminuzione o addirittura in aumento. Quindi per quanto mi riguarda una società immobiliare comunque abbastanza interessante, andiamo a vedere anche quali sono le sue principali diciamo offerte immobiliari, a Milano ad esempio ha la sede di Microsoft, quindi diciamo un cliente più che affidabile, ha un altro ufficio dove è ubicata una sede di Vodafone con un contratto tra l'altro in scadenza nel 2027, quindi un contratto di affitto a lunga scadenza e la zona beneficerà anche del completamento della linea metropolitana MM4 prevista nel 2023, e tra gli altri uffici in piazza Gaia Aulienti una sede di IBM che lo usa come spazio di innovazione e di incontro per i suoi stakeholder, un ambiente molto molto bello anche dal punto di vista estetico, quindi insomma un'esposizione negli uffici a Milano, chiaramente adesso causa smart working, potrebbe subire insomma magari qualche difficoltà, però in prospettiva rimane, secondo la mia opinione comunque, un patrimonio immobiliare comunque di tutto interesse. L'investimento invece un pochino più sostanzioso è già stato fatto in IREN, un'azione che avevo già in portafoglio da parecchio tempo, ho deciso di aumentarla, IREN penso che non abbia bisogno di presentazioni, comunque è una utilities italiana, è nata nel 2010 dalla fusione tra Iride e Enea, quindi zona Piemonte, Liguria e Emilia-Romagna, insomma una zona molto molto interessante e comunque attiva un pochino in tutta Italia, quindi fornitrice di acqua, energia, gas e servizi dell'ambiente come ad esempio i rifiuti. Una storia di dividendo abbastanza interessante, in particolare dal 2012 in avanti, periodo dal quale ha iniziato una crescita del dividendo organica e una crescita che non ha mai visto una diminuzione della distribuzione del dividendo, quindi sta dimostrando in questi anni una certa attenzione anche agli azionisti e lo stesso management nel corso dei CDA ma ha comunque dimostrato una certa sensibilità anche a una crescita del dividendo stesso che viene staccato una volta all'anno, in questo caso solitamente nel mese di giugno. Ai prezzi attuali, 9 centesimi per azione, l'azione vale 2 euro, il dividend yield è del 4,5%, quindi insomma di tutto interesse. In che settori opera IREN, quindi macro trend di settore, risorse sostenibili, transizione energetica, ruolo centrale del cliente, rivoluzione tecnologica, come cerca di raggiungere i suoi obiettivi attraverso pilasti strategici come la crescita, la sostenibilità, la digitalizzazione, l'evoluzione tecnologica e l'efficienza. Le nuove ambizioni di IREN confermate dal management stesso, quindi espansione nazionale, multi-circle economy e rafforzamento della resilienza. Un piano strategico che punta addirittura al 2030, mi piace moltissimo quando il piano industriale ha un orizzonte temporale lungo, perché comunque vuol dire che il management non guarda al breve termine, ma guarda comunque a una sostenibilità dell'azienda stessa e dei suoi conti, quindi abbiamo visto ancora transizione energetica, sviluppo sostenibile, rivoluzione tecnologica e centralità appunto dei clienti. Proseguendo, possiamo vedere come la quotazione è comunque vicina ai minimi degli ultimi tre anni, quindi una quotazione abbastanza interessante, nonostante gli utili comunque siano continuati a salire, c'è un rapporto prezzo utile di 11,83 abbastanza contenuto se confrontato soprattutto ai suoi competitors, come ad esempio magari possiamo avere Enel o altre utilities, un'utile operazione di 17 centesimi contro un dividendo di 9 centesimi, quindi in sostanza il dividendo possiamo dire che è ampiamente coperto dagli utili stessi, quindi c'è ampio margine per rialzi futuri del dividendo, in particolare se il reddito netto dell'azienda dovesse continuare a crescere. Per il 2020 potrebbe essere visto comunque in flessione, anche vista la situazione economica attuale, però con un ritorno alla normalità sappiamo benissimo che gli utilities riescono a ottenere flussi di cassa comunque abbastanza costanti, solidi e magari anche crescenti nel tempo. Possiamo vedere come il totale delle entrate dal 2016 al 2019, questi qui sono dati annuali, è comunque stato in continua crescita, stessa cosa anche per i proventi operativi e per il reddito netto comunque che si è mantenuto su ottimi livelli. Possiamo vedere anche lo stato patrimoniale con un totale degli attivi in continua crescita, è vero, anche le passività sono aumentate ma in maniera più che proporzionale, in tal modo il patrimonio netto è comunque aumentato nel corso degli anni, quindi insomma dati secondo la mia opinione abbastanza interessanti anche per IREN. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto, condividete pure le vostre opinioni se avete magari già investito in questi titoli, se li conoscete, se non li conoscete, se non vi piacciono, insomma ditemi pure cosa ne pensate delle operazioni che ho fatto e come sempre mi trovate anche su blog Wordpress, sulla pagina Facebook, sull'account Twitter e su quello Instagram. Vi mando un caro saluto e ci vediamo domani con il BTP futura numero 2 che sarà in collocamento della prossima settimana. Quindi ci vediamo domani, a presto, ciao!